Bene, con questo video vediamo una panoramica del software Powtoon che è un software per fare delle animazioni tipo cartone animato oppure anche delle semplici presentazioni con tutta una serie di effetti grafici notevoli Allora la prima cosa da fare sarà entrare col proprio account per esempio utilizzando i propri dati di Google La prima schermata ci permette di iniziare in tre modi diversi sostanzialmente partendo da zero significa che dovremo costruire ciascuna scena, ciascuna slide partendo da un bello schermo bianco quindi dobbiamo aggiungere tutto, animazioni, sfondi, colori, immagini eccetera Un modo un po' più rapido è invece costruire una storia scena per scena perché ci sono tutta una serie di modelli predefiniti che possono essere utilizzati questo è un modo per procedere abbastanza speditamente soprattutto se prima di costruire il cartone o la presentazione qualcuno ha fatto già una specie di storyboard quindi ha già pensato che testi mettere prima di tutto e poi quali immagini o quali video aggiungere come sfondo alla voce Un altro modo è utilizzare un modello ce ne sono a decine i modelli sono una serie di presentazioni già fatte tutte completamente personalizzabili ce ne sono per mille occasioni diverse e sono un modo per ottenere anche in pochi minuti un ottimo risultato sicuramente non è una cosa paragonabile a quello che si può ottenere partendo da zero però insomma hanno due tipi di pubblico differenti due esigenze di base differenti volendo si può anche utilizzare questa quarta opzione che permette di creare dei video da utilizzare nei social però insomma ci si può passare poi in questa modalità da una qualunque delle altre allora qui sulla destra vediamo che i tre passaggi da seguire sono sempre quelli cioè prima si scrive il testo perché poi questo testo verrà registrato il voiceover permette poi di lasciare più spazio nel video alle immagini o a poche parole chiave il grosso del testo viene detto a voce e sullo schermo compariranno ecco passaggio 3 tutti i visuals quindi immagini, sfondi, video eccetera eccetera qui sotto in MyPowTunes ci saranno tutti quelli che sono stati creati all'interno del nostro account per ognuno di questi c'è un titolo ci sono una serie di opzioni che consistono nel cancellare duplicare un certo powtoon, per esempio un modello duplicarlo per un intero gruppo se si sta utilizzando la versione educational c'è la possibilità di duplicare il powtoon solo per se stesso o di richiedere la collaborazione di qualcun altro con la seconda opzione invece si può lavorarci e cominciare a modificarlo o la terza invece si può esportare il powtoon già fatto e ci sono varie possibilità di esportazione dal semplice download sul proprio computer fino a caricarlo direttamente sul proprio canale youtube questa è un'anteprima per ogni anteprima ci sarà da mettere una descrizione oltre al titolo e una serie di parole, tag, parole chiave che descrivono il contenuto del nostro powtoon ok, per partire proviamo a utilizzare la prima opzione cioè partendo proprio da zero allora, questa è l'interfaccia la prima cosa da fare è dare un titolo al nostro powtoon in questo modo verrà salvato in automatico ogni tanto è sempre a buona norma schiacciare il tasto save, non si sa mai appena sotto il titolo possiamo decidere che tipo di formato dare al nostro video orizzontale quadrato o verticale più che altro per gli smartphone sulla parte destra dello schermo ci sono tutti i menu che contengono un'infinità di oggetti che possono essere aggiunti al powtoon in alto sulla destra possiamo salvare possiamo vedere una preview del nostro cartone o presentazione e possiamo esportarlo o scaricarlo nella parte sinistra invece dello schermo compariranno tutte le slide o scene della nostra presentazione cartone animato in alto sulla sinistra dove c'è il menu veloce cliccando possiamo tornare o al menu principale o andare sul nostro account o vedere il menu in cui ci sono tutti gli aiuti i tutorial eccetera il grosso del lavoro evidentemente si fa qui al centro perché questa sarà la nostra scena e sarà il nostro posto di lavoro qui sotto vediamo la barra del tempo in questo caso abbiamo una scena che dura dieci secondi la barra del tempo timeline si può anche far scomparire per comparire schiacciando su questo pulsante quest'icona invece mostra se nel powtoon e in particolare in questa slide sono presenti delle musiche come sottofondo o il voice over cioè la nostra voce che sta leggendo il testo che vogliamo metterci ogni oggetto che è sullo schermo avrà delle caratteristiche l'oggetto più semplice è questo cioè lo sfondo per variare le sue caratteristiche dobbiamo cliccare sempre sull'icona a forma di ingranaggio in questo caso possiamo semplicemente cambiare il colore con un altro ecco un'altra caratteristica che poteva avere il background era quella di essere diciamo un po' un po' più ricco e quindi se io volessi mettere uno sfondo di un altro tipo per esempio un'immagine oppure un video addirittura non faccio altro che andare nel menu qui sulla destra che si chiama background e così vediamo che le cose si cominciano ad animare ci sono dei video che possiamo aggiungere come sfondi abbiamo degli sfondi ambientati in città nella natura sfondi che abbiano dei luoghi tipici tipo la casa l'ufficio la banca eccetera background a colori divisi in zone background a stratti ad esempio questi una volta che si clicca cambia istantaneamente e infine delle immagini se vogliamo tornare a quello più semplice schiacciamo pick background color e ritorniamo al colore in tinta unita che vogliamo allora su questo sfondo io potrò inserire degli oggetti gli oggetti possono essere delle fotografie media possono essere dei video possono essere altrimenti delle figure o dei personaggi oppure dei testi per dare un'idea di quello che ci può essere possiamo andare nel menu che si chiama scene quello più in alto in queste scene troviamo tutta una serie di appunto scene già fatte sono dei modelli che sono semplicemente da personalizzare molto ricche di dettagli molto ricche anche di caratteristiche grafiche interessanti come ad esempio questi personaggi che sono animati tutti i personaggi come abbiamo detto e tutti gli oggetti in generale possono avere delle caratteristiche qui vediamo che le caratteristiche che sono molti più di prima possiamo cambiare diciamo la pose di questo uomo cliccando su pose e mettendone per esempio ecco quello felice così in questo modo saluterà le scene sono comode perché contengono già tutta una serie di oggetti ognuno dei quali ha un momento di ingresso un momento di uscita ed eventuali transizioni di ingresso di uscita prendiamo per esempio questo numero 1 cliccando su questo oggetto io vedo nella barra del tempo che si è evidenziato che l'oggetto entrerà tra il secondo 1 e il secondo 2 quindi esattamente al secondo 1 e mezzo con una piccola transizione di ingresso che dura mezzo secondo e questo oggetto rimarrà sullo schermo fino alla fine della slide cioè fino al secondo 5 se io voglio modificare il tipo di effetto di entrata non devo fare altro che cliccare qui a fianco alla barra verticale e quello che compare sono tutte le opzioni che il software mi permette di utilizzare per esempio scrivere a mano far rotolare delle lettere far comparire da destra da sinistra far comparire dal nulla o fare un pop-up oppure non dare nessun effetto ognuno di questi oggetti quindi il palloncino ecco il palloncino entra al secondo 1 questo entra al secondo 1 questa mano entra al secondo 0,5 con un ingresso che è dal basso verso l'alto eccetera quindi il vantaggio di andare a dare un'occhiata a queste scene è notevole perché è molto probabile trovare delle scene già fatte e che noi possiamo riutilizzare semplicemente semplicemente cambiando un testo un'immagine o un personaggio se io voglio per esempio cambiare un personaggio clicco sul personaggio in questione schiaccio la rotellina dell'ingranaggio e faccio swap in questo modo posso lasciando inalterate tutte le caratteristiche del personaggio quindi il momento di ingresso il momento di uscita eccetera posso andare a cercare nelle altre librerie che sono enormi di personaggi disponibili e in questo modo mantengo tutto il lavoro già fatto per me da parte dei programmatori allora diciamo che voglio aggiungere una slide quindi faccio add slide riparte naturalmente da capo cioè sfondo monocolore e qua posso riprendere il mio lavoro posso cercare altre scene oppure posso costruire da zero allora il menu scene è molto comodo e il menu scene però dipende anche dallo stile che noi abbiamo dato al powtoon ci sono cinque stili e questi cinque stili che si possono raggiungere cliccando qui in alto sopra all'icona scene questi cinque stili mi permettono di avere dei font differenti dei personaggi differenti degli effetti grafici anche differenti dipende un po' da che tipo di comunicazione dobbiamo fare per esempio per una infografica lavorativa questo potrebbe essere perfetto per un curriculum fatto da uno studente che si deve valorizzare a un datore di lavoro potrebbe andare bene quello dei cartoon per esempio una cosa un po' più legata al mondo del lavoro potrebbe essere questo allora lo stile determina in generale abbiamo detto i personaggi i colori eccetera possiamo utilizzare anche stili diversi all'interno dello stesso powtoon senza problemi basta cliccare sopra alla relativa icona in questo caso se io utilizzo il cartoon look posso vedere che ci sono delle scene di ingresso ci sono delle scene su benefici specifici magari di un certo prodotto ci sono delle situazioni tipiche in cui ci sono vari personaggi magari che stanno interagendo ci sono delle call to action finali delle chiamate all'azione oppure ci sono delle scene conclusive eccetera le scene dipendono dal look i background li abbiamo già detti i test invece permettono di aggiungere come in un normale powerpoint test di vario tipo all'interno della presentazione come abbiamo detto anche i test possono avere delle caratteristiche il colore non è l'unica perché oltre ad avere una grandezza la grandezza del font che è questo numero che si può aumentare o diminuire col più o il meno possiamo dare degli effetti tipo grassetto corsivo sottolineato possiamo allineare al centro a destra a sinistra il testo nella nostra casellina possiamo anche dare degli effetti che sono il modo di scrivere questo test e di farlo comparire modo di entrata enter o modo di uscita exit modo di entrata potrebbe essere scrivere a mano quindi clicco su write esco se io faccio un'animazione partendo dal secondo zero spostando questo triangolino nella vara del tempo o cliccando su il pulsante play si vede che il testo entra scritto con l'effetto del pennarello se io volessi modificarlo torno su effetti cambio diciamo che la voglio fare entrare lettera per lettera mettiamo roll faccio ripartire dall'inizio ed entra lettera per lettera ecco un'altra caratteristica del testo può essere il movimento così come di quello che è l'altro oggetto gli oggetti possono entrare e possono cambiare la forma possono cambiare la rotazione o la l'inclinazione e possono anche cambiare il posto all'interno della nostra scena facciamo un esempio diciamo che questo testo voglio che si sposti dall'inizio verso la fine verso qua la parte bassa dello slide allora io seleziono il testo vado a cliccare sulla icona A to B compare una seconda casella con lo stesso testo dentro che io trascino e la faccio arrivare per esempio qui allora vediamo che cosa è successo nella barra del tempo al secondo uno compare la parola che abbiamo messo questa parola dura fino alla fine della slide volendo se tiro indietro verso sinistra ecco questo punto in questo modo compare il testo e sparisci fino dall'ottavo secondo questo questa barra intermedia mi permette di definire quanto tempo ci impiega il testo da spostarsi da qui a qui in questo caso il testo comincia a muoversi subito dal secondo uno al secondo quattro ha finito il suo spostamento nella seconda posizione nella quale rimane fino al secondo otto e poi sparisce con un effetto di uscita pop clicchiamoci sopra possiamo per esempio farlo sparire facendolo andare verso il basso e possiamo farlo entrare per esempio facendolo arrivare dal basso verso l'alto quindi ricapitolando entra dal basso verso l'alto al secondo uno ci impiega tre secondi per spostarsi dove deve andare rimane fino al secondo otto e poi scompare vediamo sale dal basso verso l'alto si sposta rimane dal secondo quattro al secondo petto e sparisce ecco effetto dell'animazione del testo è carino e si può fare la stessa cosa anche con i personaggi se torniamo nella slide precedente ogni oggetto per esempio questo mino diciamo che lo facciamo entrare al secondo uno e uscire al secondo quattro questo entra se lo voglio far spostare faccio come prima seleziono l'oggetto vado sui sulle sue caratteristiche a to b e dico spostando il secondo dove voglio che vada alla fine una cosa interessante che posso anche far ingrandire o rimpicciolire semplicemente prendendo uno degli angoli questi dove c'è il pallino rotondo e rimpicciolendolo o ingrandendolo in questo caso io posso farlo diventare piccolino e farlo comparire qui anche in questo caso posso decidere che questo spostamento può avvenire in un tot di tempo per esempio qua metto che inizia il secondo uno e finisce il secondo tre rimane lì per un altro secondo e poi scompare vediamo entra si sposta è sparito la domanda è perché non si vede più? perché ogni oggetto deve essere in primo piano se voglio che si veda sempre altrimenti altri eventuali oggetti che sono stati aggiunti dopo come dire gli stanno davanti allora se io voglio mantenere in primo piano questo oggetto sempre devo selezionare col tasto destro l'oggetto bring to front quindi porta nel primo piano allora in questo caso gli ho detto di rimanere davanti ed è rimasto davanti prendiamo una nuova slide per fare qualche altro esperimento torniamo ai titoli e al test in generale che possiamo mettere titolo sottotitolo e corpo del testo sono diciamo quelli di default per inserire un testo normale all'interno del Powtoon sono semplicemente con grandezze differenti e con font differenti se voglio cambiare il tipo di font non faccio altro che fare doppio click e dal menu tendina selezionare uno dei font disponibili ci sono però dei test dei testi che sono più curati graficamente e li trovo in tutti questi menu possono essere testi colorati possono essere dei balloon che contengono dei testi delle liste dei titoli con tutta una serie di caratteristiche grafiche oggetti da mettere oggetti da mettere magari su una mappa oppure dei badge naturalmente ognuno di questi è un elemento unico che però può essere personalizzato al 100% quindi sono composti questi qua da tanti oggetti che possono essere poi anche cambiati in particolare qua posso cambiare il testo basta un doppio click questi sono i testi schiacciando su characters compaiono invece tutte le famiglie di personaggi che possono essere utilizzati è buona norma in un powtoon utilizzare dei personaggi che appartengono tutta la stessa famiglia perché hanno delle caratteristiche grafiche simili e tendono a stare meglio assieme piuttosto che mescolare invece personaggi di famiglie diverse ce ne sono anche qua di vari tipi con l'account educational si possono utilizzare tutti ci sono i supereroi ci sono le famiglie anni 80 ci sono i cartoni animati ci sono i videogiochi i pixelosi anni 70 anni 80 ci sono altri cartoni ci sono addirittura i panda e ci sono anche dei personaggi che sono disegnati a mano e ricordo che questo è solamente il look cartoon se io mettessi un altro tipo di look per esempio questo i personaggi cambiano se ne sono degli altri quindi sono da cercare perché ci sono parecchie sorprese tipo questi qua sono tutti in bianco e nero per esempio infatti siamo nel look whiteboard in certi altri stili non compaiono invece i personaggi perché sono pensati apposta per fare slide senza questi questi oggetti quindi se voglio mettere delle persone sceglierò modern edge whiteboard oppure cartoon e i personaggi si trattano come tutti gli altri oggetti io posso cliccare su un personaggio e lo trascino all'interno del powtoon posso ingrandirlo cliccando sulla rotellina posso cambiare l'orientamento posso cambiarlo con un altro posso cambiargli la posa per esempio farlo diventare arrabbiato posso cambiare nell'opacità fare degli effetti di entrata ed uscita e utilizzando a range posso metterli in primo piano in secondo oppure in terzo back backward eccetera oltre ai personaggi abbiamo gli oggetti gli oggetti sono già divisi in categorie quindi se io voglio mettere una macchinina la posso prendere dal relativo menu l'altro modo è quello di cercarlo scrivendo nella barra di ricerca la parola in inglese in questo modo vediamo che alcuni oggetti sono animati altri sono statici per quelli statici non ci si può fare più di tanto perché anche nelle opzioni si vede che non c'è la possibilità nemmeno di cambiare colore o fare altro per gli oggetti animati possiamo decidere il il numero di animazioni animation una volta zero volte per andare avanti in loop come abbiamo già visto prima a volte possiamo anche cambiare i colori possiamo vedere cosa succede ecco questo è terribile però volendo possiamo anche cambiare i colori il menu successivo è quello delle forme quindi se io voglio inserire rettangoli forme varie cerchi triangoli oggetti solidi oggetti a due dimensioni eccetera non faccio altro che trascinarlo ognuno di questi sarà come un qualunque altro oggetto che abbiamo visto prima cliccando sull'icona delle sue caratteristiche posso cambiarlo posso rotarlo posso spostarlo eccetera le forme sono comode per per vari motivi anche per rendere più leggibili a volte i testi oppure per inserire dei testi all'interno di alcuni oggetti ecco queste sono sostanzialmente le cose che posso aggiungere personaggi oggetti e forme dal punto di vista grafico se vado in media posso cercare anche delle immagini oppure dei video oppure dei contenitori contenitori di immagini questo è molto interessante perché prendiamolo in una nuova slide io posso andare a prendere un contenitore per esempio un monitor di un computer quello che mi chiede è di selezionare un'immagine da aggiungere qui dentro come se fosse visibile all'interno del monitor e per selezionarlo posso o caricarlo facendo upload media caricarlo dal mio computer oppure posso selezionare degli esempi di immagini dai miei documenti o cercarlo su flickr dove trovo delle immagini gratuiti di ogni tipo ora io non faccio altro che cliccare sull'immagine e l'immagine comparirà all'interno del monitor il monitor sarà ciò che io posso allargare o rimpicciolire l'immagine si adotterà di conseguenza all'interno di questi contenitori non ci possono stare dei video per lo meno per ora però quello che si potrebbe fare se io proprio volessi metterci un link a un altro video è cliccare sul contenitore andare sulle sue caratteristiche e metterci schiacciando sul link un link al video su youtube che io voglio far vedere in questo modo quando verrà poi esportato il video e le persone potranno vederlo in questo momento se io scrivo qui sotto clicca sul video per vedere il video completo uno cliccando sul video potrà vedere il video completo su youtube questa è una funzionalità abbastanza notevole sui media abbiamo detto immagini e video i video sono tutti brevi segmenti che possono essere della durata massima di 90 secondi poiché una scena dura 10 in questo caso ma al massimo può durare 20 secondi prendiamo una nuova slide per esempio io posso aggiungere i secondi cliccando sul più e sul meno che trovo qui in basso sulla destra dopo i 20 secondi non ci posso andare e quindi sono obbligato a passare alla slide successiva se io volessi aggiungere in questa slide questo video ci clicco sopra schiaccio add to this slide e questo video da 25 è stato spezzato in due dal secondo 0 al secondo 20 in questa slide che è la numero 6 i 5 secondi rimanenti cioè dal 20 al 25 sono nella slide successiva io quindi posso decidere di mettere anche solo una parte di uno di questi centinaia di migliaia di video che sono a disposizione cliccando sopra l'icona a forma di di telecamera diciamo così e dando un momento di inizio quindi se io voglio dire comincia dal secondo 5 gli dico 00 05 in questo modo andrà dal secondo 5 al secondo 25 per una durata di 20 secondi questo qua stessa cosa posso dire parte dal secondo 00 e vai avanti fino al secondo 6 o al secondo 5 quello che è se la seconda slide non mi serve è sufficiente cliccare sulla slide cliccare su remove slide il cestino e così rimangono solamente quei 20 secondi che avevo messo in questa slide che vanno dal secondo 5 al secondo 25 i video sono un'infinità quindi per ricercare io devo mettere una parola in inglese lui mi offrirà tutta una serie di proposte e io posso poi sceglierne una e vedere anche l'anteprima direttamente non c'è bisogno di inserirla all'interno del powtoon se io mantengo il mouse sopra all'immagine dopo un pochettino parte e si vede il video che hanno tutti più o meno durate insomma abbastanza brevi 20-25 secondi massimo 90 però insomma da 90 io non li ho ancora trovati questi i video sui video sui video naturalmente se io clicco su play si vede il video all'interno di questa scena sui video io posso aggiungere qualunque altro tipo di oggetto quindi posso metterci per esempio dei testi quindi se io voglio scrivere luna piena e far sì che questo sia un testo che compare da un certo punto in poi io seleziono il testo dico di entrare nel secondo 5 e di uscire al secondo 11 e parto si vede il video al secondo 5 compare il testo che resta dentro fino al secondo 11 quando se ne va tutto quello che abbiamo detto prima sugli oggetti vale anche questo testo questo video sono tutti oggetti che hanno delle caratteristiche e più o meno le caratteristiche sono sempre quelle se clicco sul video infatti sullo sfondo c'è il momento d'inizio se voglio mantenere l'audio originale del video oppure no eccetera quindi i media lo fanno diventare molto multimediale il nostro powtoon abbiamo visto le le cornici abbiamo visto i video e le immagini se io ho delle ho qualche cosa che voglio caricare dal mio computer dal mio telefono non devo fare altro che schiacciare su upload media e dopo mi chiederà da dove lo voglio caricare e me lo metterà insomma all'interno del del powtoon al posto giusto nella nel menu che si chiama special specials ci sono tutta una serie di oggetti per eventi speciali quindi feste magari festività cose tipiche americane oppure qualche speciale che hanno fatto i programmatori di powtoon tipo i calciatori tipo una tribù africana che sono andati a intervistare a scoprire ci sono anche i mini me che sono dei personaggi nei quali al posto della testa io posso inserire non so l'immagine di una persona e quindi questa persona o meglio la sua faccia comparirà qui dentro mettiamoci per esempio un panda vediamo se troviamo un panda questo panda che è questo ecco posso ingrandire il personaggio e nel momento in cui gli dico di muoversi per esempio da un punto a a un punto b il panda rimane all'interno del contenitore e buffo magari mettendoci la faccia di una persona insomma si prende un po' in giro si fanno delle caricature eccetera l'ultima cosa che rimane sono le musiche abbiamo detto che ci sono due tipi di audio che posso aggiungere uno è la musica di sottofondo add music si fa se voglio aggiungere una musica mia caricata da un file mp3 un altro modo è schiacciare su uno di queste di questi contenitori di musiche per esempio se schiaccio su happy troverò musica particolarmente felici ognuna di queste può essere utilizzata senza problemi di diritto d'autore posso cliccare su play per ascoltare un'anteprima ad esempio adesso schiaccio questo se mi convince schiaccio use cosa è successo? che se vado all'interno del dell'opzione questa del microfono diciamo viene scritto che la canzone che ho selezionato in questo caso sunny days diventa il sottofondo dell'intero powtoon io posso poi decidere sopra questa voce sopra questa musica di metterci un voice over cioè la mia voce che dice che legge un certo testo il voice over posso caricarlo o registrarlo direttamente mi basta un microfono collegato al computer oppure posso registrarlo sul telefono e poi mandare il file in formato mp3 al mio computer e poi lo carico dal computer col voice over io avrò la mia voce sopra la musica dovrò stare attento ad abbassare il volume della musica perché in genere è molto alto quindi metterò 15-20 il valore della musica e 100 il volume del voice over in questo modo posso decidere di aggiungere anche scena per scena per scena oppure per l'intero powtoon il testo letto da me o da altri se seleziono l'icona grid compare sul powtoon una serie di linee che mi permettono di allineare meglio verticalmente e orizzontalmente gli oggetti in ogni caso questa griglia non comparirà sul powtoon quando verrà esportato i menu sono questi si può utilizzare powtoon come se fosse un normale powerpoint ma tutte le possibili animazioni che ci possono stare gli effetti lo rendono molto molto più versatile alla fine quando siamo soddisfatti del nostro lavoro prima dopo aver fatto magari un'ultima preview possiamo esportarlo e ci sono varie opzioni per esportarlo perché la prima cosa da fare è collegarlo alla nostra collegare questo account alla nostro account su youtube o su facebook in modo tale che il video venga pubblicato istantaneamente oppure possiamo scaricarlo in formato mp4 possiamo scaricarlo anche come pdf naturalmente non ci saranno le animazioni essendo un testo stampabile oppure possiamo condividerlo direttamente o per email o metterlo sul nostro sito oppure condividerlo sui social network più importanti diciamo se io volessi caricarlo per esempio su youtube clicco sull'icona mi chiede di aggiungere un account io selezionerò il mio account legato a quello che ho associato a powtoon consento di gestire il mio account da questo momento powtoon può caricare direttamente sul mio account youtube tutti i video è importante mettere assolutamente privato il video perché pubblico lo potrebbero vedere tutti gli altri senza nessun tipo di filtro con unlisted il video non è in elenco però uno che ha il video che ha il link lo potrebbe vedere mettendolo come privato invece prima di renderlo prima di farlo di mandarlo in giro io posso lavorare un po' all'interno dell'editor di youtube per esempio mettendoci delle parole chiave mettendo dei sottotitoli mettendo tutta un'altra serie di cose che è meglio fare allora prima si mette privato oppure unlisted mettendo unlisted in realtà lui nella descrizione del video aggiunge tutta una serie di righe in inglese con anche un link al software di powtoon quindi quello si potrebbe cambiare quindi io metto in genere privato però diciamo che lo mettiamo così fuori dalla lista schiacciamo next diamo il titolo aggiungiamo una descrizione che comparirà su youtube e gli eventuali tag che compariranno sempre su youtube selezioniamo una categoria per esempio education diamo una privacy del nostro powtoon all'interno della community di powtoon stesso quindi vogliamo che sia pubblico o vogliamo che non sia raggiungibile allora diciamo unlisted schiacciamo next poi possiamo decidere se farlo in qualità standard alta qualità o qualità massima una volta che schiaccio upload powtoon il software comincerà a trasformare il nostro lavoro in un video e lo caricherà su youtube in maniera automatica riceveremo poi nella nostra casella di posta un link che ci dice il tuo powtoon è stato pubblicato e lo trovi a questo indirizzo torniamo indietro ecco questo è l'export se voglio invece semplicemente scaricarlo schiaccio mp4 lui mi chiederà più o meno le stesse cose che mi ha chiesto prima mi chiede un tipo di privacy mi chiedono la descrizione tutta una serie di parole chiave posso mettere l'alta qualità schiacciando download powtoon anche qua in questo caso mi arriverà un link nella mia casella di posta che ho associato a quest'account e da quel link oppure direttamente da qua se ho un po' di pazienza di solito è una questione di pochi minuti e posso scaricare sul mio computer il video con la qualità che ho selezionato avendo un account educational non posso fare in modo che non ci sia questo brand di powtoon powtoon for education se utilizzo invece la versione business o professional questo logo sparisce e tutte le presentazioni sono pulite bene questo a grandi linee è powtoon dal punto di vista tecnico non è difficile imparare a utilizzare questi menu è un po' più difficile imparare a far succedere delle cose sullo schermo ma questo con la pratica e col prossimo video magari riusciamo a risolverlo grazie per l'attenzione alla prossima ciao